Nella giornata di ieri gli uomini della guardia costiera di Agropoli hanno avvistato a circa un miglio della costa una famiglia di cetacei. Erano almeno due le balenottere che nuotavano verso l'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate, un avvistamento non comune specialmente per la vicinanza alla costa. Lo spettacolo è stato immortalato con grande stupore da uno dei guardiacoste.